Grazie a tutti. Grazie a tutti. Appuntamento settimanale col sonetto di Pasquino. Questo sabato l'anonimo poeta dialettale divide i suoi versi tra il Covid-19 e un personaggio politico. La COSAR punta a tornare in Serie 2. Il Presidente Antonio Parisi ha preannunciato la presentazione della domanda di ripescaggio alla Federazione. Buonasera dal TRC Giornale da Raffaella Angeletti. Secondo zero consecutivo per l'ASL Roma 4. La Regione Lazio ha comunicato che oggi non ci sono stati casi positivi riscontrati nel territorio dell'azienda sanitaria. In compenso sono guarite 15 persone, 3 a Civitavecchia, 3 al Dispoli, 5 a Morlupo, 1 a Riano, 1 a Trevignano, 1 a Formello e 1 a Fiano Romano. Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus Civitavecchia sono stati 289 positivi riscontrati, compresi i 34 decessi e i 192 guariti per un totale di 63 positivi allo stato attuale, numero che continua a scendere visto l'andamento positivo. E si chiude una settimana particolarmente importante sul fronte coronavirus e se ne sta per aprire un'altra ancora più importante. Proprio in queste e nelle prossime ore si potrà infatti vedere se l'inizio della cosiddetta fase 2 ha determinato o meno una ripresa dei contagi. I primi indizi fortunatamente fanno supporre di no, ma vediamo di capire il perché in questo nostro servizio. Ancora una giornata, quella di ieri, caratterizzata da zero contagi, l'ennesima. Praticamente negli ultimi dieci giorni, fatta eccezione per una parentesi che ha riguardato ancora una volta persone che si trovano nella RSA, a bello sguardo soltanto tre persone estranei dai cosiddetti focolai sono risultati positivi al coronavirus. Non solo, è ulteriormente sceso il numero dei decessi e soprattutto è aumentato esponenzialmente il numero dei guariti, facendo scendere di conseguenza quello delle persone affette da covid-19, che attualmente sono solo 67. Nel frattempo il San Paolo è tornato un ospedale dove non sono presenti dei genti affetti da coronavirus, con il reparto di medicina che può adesso contare su entrambe le divisioni. Il quadro diventa ancora più tranquillizzante se si considera che proprio negli ultimi giorni sono ulteriormente aumentati i controlli, attraverso i tamponi che vengono effettuati ad appartenenti delle forze dell'ordine e ai dipendenti di società che si trovano all'interno del porto. E il fatto che nonostante l'aumento dei tamponi effettuati a persone non a rischio, il numero dei contagi non sia aumentato, lascia ovviamente ben sperare per il futuro immediato. Peraltro le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi. Da lunedì 4 maggio è infatti partita la fase 2 con le persone che hanno potuto uscire e rifrequentarsi e quindi già dai primi giorni della prossima settimana si potrà avere un quadro preciso e verificare se, come tutti speriamo, non ci sarà la temuta ripresa dell'epidemia. Lunedì intanto scatta quella che potremo definire la fase 2 e mezzo, visto che potranno riaprire tutte le tipologie di attività commerciali e potrà avvenire la somministrazione di alimenti e bevande all'interno di bar, ristoranti e locali che fino a domani saranno obbligati alla vendita per asporto. E alla vigilia di quello che è un altro passo importante, verso il lento ritorno alla normalità, si è svolta una seduta della Commissione Commercio, il cui esito viene salutato con grande soddisfazione dalla Presidente Fabiana Attig, che ringrazia le forze di maggioranza e opposizione, l'assessore competente Claudio Pescatori. Nel merito è stato approvato un ordine del giorno dove, sinteticamente, i principi fondamentali sono quelli di ampliare e autorizzare con procedure semplificate le occupazioni di suolo pubblico a beneficio di ristoranti e bar e chioschi stagionali, anche in attesa di specifici interventi da parte dell'esecutivo di governo. È stato poi deciso di richiedere l'istituzione di diverse aree pedonali e aree a traffico limitato e di prevedere un temporaneo affidamento delle aree site sul demanio marittimo ad uso di commercianti o ristoratori locali, previa evidenza pubblica. È stata poi approvata all'unanimità dei componenti della Commissione Commercio un'altra importantissima modifica, quella sui criteri di assegnazione delle concessioni stagionali, non più vincolati alla sola stagione estiva, con tempi brevissimi, ma ampliate anche alla stagione invernale. E a distanza di quattro anni torna il fenomeno della moria di pesci alla frasca. Ieri pomeriggio alcuni pesca sportivi hanno infatti rinvenuto le carcasse di pesci di piccolo taglio nell'area a Tigua, la centrale di Torre Valdaliga Nord, davanti alla Torre Petrolifera. Sull'episodio la Capitaneria di Porto sta svolgendo accertamenti, ma sentiamo il servizio. Vediamo. Ci risiamo. A distanza di quattro anni torna il fenomeno della moria di pesci alla frasca. Ieri pomeriggio numerosi e diversi esemplari di pesce sono stati rinvenuti sulla battigia da alcuni pesca sportivi che si trovavano nella zona. L'area è quella che era stata interessata dal fenomeno esattamente quattro anni fa, ovvero il tratto di mare compreso tra la centrale di Torre Valdaliga Nord e la Torre Petrolifera. Questo ovviamente non sta a significare che i due impianti possano essere in qualche modo responsabili del fenomeno. Quattro anni orzono, c'è da dire, la situazione si presentava diversa. Sulla spiaggia erano infatti arrivati pesci di una certa taglia, murene, dentici, addirittura un delfino. Come se qualcosa fosse avvenuto a largo. Questa volta invece si tratta di pesci di piccole dimensioni e tutto lascia intendere che se ci si trova di fronte a qualcosa di anomalo, deve essere avvenuto dove il mare non è particolarmente profondo. Quattro anni fa nulla di significativo emerse dall'indagine che era stata immediatamente avviata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Un'indagine tempestiva avviata immediatamente dalle autorità marittime, anche alla luce delle numerose prese di posizione e del clima di allarme che si era creato. Su quell'episodio intervennero infatti non solo le associazioni ambientaliste dei consumatori, ma direttamente l'amministrazione comunale. I rilievi tecnici e chimici fatti effettuare all'epoca dalla Guardia Costiera non evidenziarono alcuna anomalia e di conseguenza si parlò di fenomeno episodico e circoscritto. Adesso bisognerà verificare se le ulteriori indagini dalla locale Capitaneria di Porto porteranno allo stesso risultato di quattro anni fa. In attesa indipendentemente dal necessario decreto ad hoc su Civitavecchia, promesso a più riprese anche da fonti autorevoli, il presidente Di Maio prenda la decisione e favorisca l'apertura delle banchine a nuove imprese autorizzate, in piena trasparenza e correttezza. Le motivazioni obbligatorie per legge non mancano di certo, visto che la crisi è gravissima del Porto. Lo scrive l'Associazione Città Futura, che saluta con grande soddisfazione la norma contenuta nel cosiddetto decreto rilancio, che di fatto liberalizza le operazioni portuali, andando in deroga ai piani regolatori per tutto il periodo dello stato d'emergenza coronavirus per i sei mesi successivi. Per Città Futura il provvedimento di forte valenza pratica toglie ogni alibi a quanti hanno impedito che si risolvesse un'avvertenza, anche dopo le stesse indicazioni che oggi da il governo erano emerse a seguito della sentenza del TAR, ovvero che il sistema della logistica impone versatilità e adattamento ai cambiamenti, soprattutto dei contesti, e chi non lo comprende dimostra scarsa visione di prospettiva. Lo scontro tutto interno alla maggioranza fra grassiani e tedeschiani non può far dimenticare alla città che ci sono tanti temi su cui dibattere, su cui l'attuale amministrazione comunale, volendo usare un eufemismo, sta lasciando a desiderare. Lo afferma il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, in riferimento alla crisi di maggioranza che si registra a Palazzo del Pincio e alla raccolta differenziata, che non sarà più porta a porta a partire da luglio nella zona 2, il sindaco in pectore Grasso all'ambiente, spiegano a Lucernoni, Danto e Lecis, ha annunciato che chiederà ad Enel di pagare lo scellerato cambio di sistema di raccolta rifiuti che è stato ipotizzato. Come gruppo Movimento 5 Stelle vogliamo far presente a cittadinanza e amministrazione che vigileremo con attenzione sulla corretta applicazione delle norme vigenti. I grillini sottolinano come le opere che Enel deve alla città, infatti, non sono generosi regali, ma prescrizioni via, ossia opere che il colosso energetico avrebbe dovuto fornire alla comunità come compensazione socio-economica per la riconversione a carbone. E purtroppo chi si aspettava svolte epocali e colpi di scena è rimasto piuttosto deluso. Potere al popolo commenta così l'Assemblea degli azionisti di Enel che si è svolta ieri, appuntamento ritenuto cruciale da chi guarda con attenzione al tema della riconversione ecologica nel nostro paese e al futuro, anche occupazionale, della nostra città. Spiega poi che il colosso energetico ha infatti confermato l'intenzione di procedere alla realizzazione di una nuova capacità a gas in sostituzione dei gruppi a carbone, in chiusura entro il 2025, così come previsto dal Piano Integrale Nazionale Energia e Clima e indicato Cività Vecchia tra le sedi dove si intende costruire nuove centrali turbogas. Di fronte a questa situazione potere al popolo si chiede che fine ha fatto la politica locale e com'è possibile che si aspetti solo la convocazione di una conferenza dei servizi per cominciare fuori tempo massimo a parlare di piani industriali alternativi e riconversione energetica. Chiede poi cosa aspetta l'Aggiunta Comunale a inchiodare Enel alle proprie responsabilità e quanti aperitivi zingarettiani bisognerà attendere e aspettare prima che la Regione Lazio ci faccia capire quale posizione assumerà nel momento in cui il leader autorizzativo della nuova centrale si velocizzerà e busserà alla porta della nostra città. E' ancora una serie di medie e piccole opere pubbliche realizzate sul territorio comunale nelle ultime due settimane. Lo si legge in una nota dell'assessorato ai lavori pubblici nella quale si aggiunge che particolare attenzione è stata posta negli ultimi giorni alla salubrità e sicurezza degli ambienti di diretta competenza comunale. Il maggiore intervento in tal senso si registra agli uffici di Fiumaretta dove è stata portata a termine la disinfezione con l'area che adesso è pronta per qualsiasi emergenza. E' stata ultimata inoltre la sostituzione degli infissi dell'Aula Calamatta mentre stanno per terminare i lavori di adeguamento all'ufficio relazioni con il pubblico. Sempre per questioni di sicurezza sono stati isolati i locali che ospitavano gli spogliatoi dell'ex campo Saraudi dove erano presenti bivacchi abusivi. Securitas Metronotte prende le distanze rispetto all'allarme lanciato da Filcans CGL e Fisaskat Cisle su nuovi tagli in arrivo per le guardie giurate dipendenti dalla storica società che si occupa di sicurezza e che operano al porto nel settore croceristico. La Securitas smentisce quanto dichiarato dalle due organizzazioni sindacali e sottolinea che al fine di garantire continuità salariale a tutti i propri dipendenti normalmente impiegati al porto si è tempestivamente attivata per garantire agli stessi tutti gli ammortizzatori sociali messi a disposizione dalle norme emergenziali emanate dal governo in aggiunta agli strumenti economici e di flessibilità comunque utilizzabili. In ultimo spiega di aver manifestato a Filcans CGL e Fisaskat Cisle tutto il proprio disappunto ritenendo le esternazioni fatte del tutto inappropriate e inopportune. Le strutture extra alberghiere, codice Ateco 55-20-51 non sono state comprese nei decreti legislativi emanati circa le riaperture a differenza delle strutture alberghiere è quanto dichiara Marco Leopardo delegato locale dell'Associazione Nazionale Bed & Breakfast affitta camere, case vacanze e locazione turistica. Secondo Leopardo, che ringrazia l'onorevole Battilocchio che ha voluto presentare una precisa interrogazione parlamentare su questo tema, si tratta di un fatto clamoroso. Queste strutture, afferma Leopardo, rappresentano una grande risorsa sia per gli utenti che per le tante famiglie che hanno deciso di investire sui propri immobili, fornendo un servizio importantissimo. Ed eccoci arrivati al settimanale appuntamento con il sonetto di Pasquino, l'anonimo poeta dialettale anche questa settimana si occupa del Covid-19 e lo fa a modo suo associando ai comportamenti di un determinato politico della scena nazionale sul quale si sofferma più di altri. Il titolo del sonetto di questo sabato è Er corpo d'estato. Ma sentiamo. Salvini dice di essere preoccupato perché ci tiene alla democrazia e ci avverte con gran diplomazia che qualcuno sta a fare un corpo d'estato. Il cittadino viene controllato e approfittando della pandemia gli si leva qualsiasi garanzia e alla fine si trova imbavagliato. Per questo il capitano è assai incazzato. Dopo che ha fatto qualche acrobazia per aver potere la supremazia si ritrova cornuto e mazziato. E pensa che qualcuno l'ha fregato che un altro vuole fare quella magia e non ce sta. Gli è via la gelosia. E' lui che vuole essere incoronato. La possibilità che il club chiedesse il ripescaggio dopo l'interruzione dei campionati trovano conferma nel presidente Antonio Parisi. Parisi spiega che la società sta valutando la possibilità di richiedere un eventuale ripescaggio in A2 per il prossimo anno soprattutto se ci dovesse essere qualche defezione di altre realtà. Il numero uno della formazione civile vecchese chiarisce anche la posizione della società in merito alle parole di Lisi sul Palagalli che aveva parlato di voci circa una possibile chiusura prolungata dell'impianto e dell'addio alla gestione della SNC. Voci che non vengono invece confermate da Parisi il quale sottolinea che la società sta valutando assieme alla SNC e altre società gestori di impianti pubblici comunali una fattiva collaborazione nella speranza di poter ripartire al più presto in sicurezza. Specifico inoltre conclude Parisi che i rapporti della Coser Nuoto con gli altri sodalizi natatori quali Centum Celle, Nuotatori Civitavecchiesi e SNC in questi anni si sono rafforzati come frutto di legami sportivi e stima reciproca. E termina qui questa edizione del nostro TRC Giornale e naturalmente come sempre vi invito a seguirci anche sui nostri canali social quindi Facebook, Youtube e oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it Quindi non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di programmi di serata e un buon fine settimana. Grazie a tutti.